Ciao ragazzi eccoci qua con un nuovo video, questa sarà una video ricetta e parleremo di crema nutella, crema la dutella, crema al cioccolato, potete farla anche bianca non aggiungendoci il cacao, quindi è una specie di crema spalmabile che potete utilizzare appunto da mettere o su una specie di panino ducan o sulle torte ducan oppure su qualsiasi cosa che volete. Ma io questa ricetta l'ho utilizzata per fare un'altra video ricetta che è il tiramisù ducan, quindi vi lascio quella ricetta lì per andare a vedere come si svolge il tutto. Una cosa che vorrei aggiungere è proprio quella del cacao, nella ricetta parlo di cacao magro, io ho utilizzato lo 0,1 che è quello di Tibiona, Buongiovanni, ma in realtà potete utilizzare il cacao all'11%, la colorazione della nutella, chiamiamola così, sarà appunto di colorazioni diverse, più chiara se utilizzate il cacao più magro, quindi 0 tollerati, invece è un po' più scura se utilizzate il cacao invece all'11% di grassi e ovviamente considerando appunto i tollerati. Io vi mando un bacio e vi lascio al proseguimento della ricetta, ciao! Per questa ricetta servono... 300 ml di latte liquido 8 g di guar Dolcificante a piacere Aroma nocciola 3 cucchiai di latte in polvere 1 cucchiaio di cacao 2 cucchiai di quark 2 cucchiai di latte in polvere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.